ciao a tutti forniters siamo su questo nuovo video di youtube vi farò vedere come fare la missione esamina una macchina del viaggio che dovrebbe essere proprio qua a sto benzinaio controlliamoci però no e non c'è qua allora controlliamo chi è che sto chi sei non ricordo molto era il personaggio allora prendiamo la lamborghini per andare un po' frustrante c'erano no sono sicuro che è a brugliere brugose brumose ora intanto allora adesso andiamo prima mettere il segno sulla mappa prima il segno sulla mappa che penso che sia qua in questa casa facciamo benzina aspettiamo poi dove ho preso ordine anche perché la più veloce non aspettiamo andiamo piacere un cammino video di sito al più o di per il problema è che mi si quindi ce la farò perché bottino una perdita e la pista e il rai che sia un po che la potremmo fare per mancanza 100 metri fra 3 e 2 secondi parto la 6 vedete il cazzo si ce la fa non sono sicuro allora guardiamo con questo a volte c'era le macchine del ghiaccio sarebbero quelle quelle le macchine del pesce non c'è io voglio stare ho uno no perché vai missione e vorrei di essere lasciati in pace allora qua non c'è si qua non c'è riprendiamoci la lamborghini speriamo di farcela e diverso e si corri aspettiamo ma chi è che la spunzione gli saluoghi andiamo e potrebbe essere qua eccolo e in questa posizione cioè ecco dove potrei potete trovare la macchina del ghiaccio un quadro l'ho segnalato ciao a tutti ragazzi forniters e ci vediamo un prossimo video ciao